Perchè stai ridendo? Non è possibile. Vogliono che andiamo a cercarli. Queste sono immagini di siti archeologici su tutta la terra. Antiche civiltà che non avevano alcun contatto tra di loro. Tuttavia, i pittogrammi sono tutti uguali. Mesopotamia, gli Aztechi, dipinti nelle caverne della Francia. Una mappa delle stelle? No, non è una mappa. È un invito. Prometheus è atterrato. Quanto andresti lontano per avere risposte? Fino a che punto arriveresti? Prometheus, lo stai vedendo? Oh mio Dio. Era vero. Che cos'è? Ho ricevuto un ping. Che cos'è un ping? Un click a ore 9. Si muovono! Oh no! Questa cosa... Dobbiamo andarcene! È aperto dall'interno. Ho un uomo qua giù! Ce l'ho nella giunta! Si è finita nella giunta! Uccidete tutto! Avete sentito? Se non lo fermate... non potremo più tornare indietro! Diveni all'interno! Tutto ci sono un puoi vivere! Poi! Non lo fermo! No! Te ascolto! È venuta! Per teus! E私 lo fermo! Non lo fermi! Voi fare! È venuta! Grazie a tutti.